Ragazzi buongiorno, bentornati in pataletti catti Io sto a fare uno attimo cercando di capire di cosa essere successo qua in questo gioco Eserciti, forse fento, io ho poter ottenere fino a 600 scatoletti di catto Io tofferi ti provare, 120 scatoletti di catto, non dare pene, non dare pene Io ragazzi non so cosa sta succedendo, io ho preparato per ti battaglia contro ti zompi Uno attimo e loro ho partito con ti e fento, è essere strano però Fare fettere me che cosa essere di tutto questo, telefonatati coracciosa Unità mia, accatemia patti cuore, io no capire pene che cosa ti stare succedendo Forse io tofferi ti utilizzare di quello ti catto, noi no fare però unità ti battaglia, ti batti cuore, cosa essere Me ricorda di non fare nervosire me perché se no io prendo di andare a battaglia contro zompi e lasciare qua tutti quanti Che cosa essere queste ti battaglia, perché essere partita di musica, ti difficile, ti livello Quanto a fare ti cani, non sarei per neanche tu fetti andare pieti Cosa essere successo, ah io tofferi aspettare ti 30 minuti Ah essere ti quello di aspettare tempo Bene mi hai capito, a me non frega niente, andare ti impero ti catti, noi fare battaglia contro zompi da fermare Tu fai essere andati loro, principato ti monaco, loro essere ti sotto ti Francia E quanto loro essere ti sotto ti Francia, noi andare a prenderti sotto ti Francia, a me non interessa loro tu fai essere Ah mi hai ricordato anche ora ti loro, quartare, fare ti, costare ti molto ti meno di esperienza Ti catto per poter andare dentro ti campo Questi erano tempi pelli quanto ti nocera, ti costo tutto esacerato Adesso essere ti uno, uno grosso problema, costo esacerato per tutto quanto Molto bene zompi parte 1, essere ti andato affatto Mi ricorda poi vedere loro si spostare Loro passare da uno ti monto e andare verso ti altro ti monto Oh guardate che carini, essere andati su primo ti lifello Io notare che ogni tifolta esserci ti patele contro zompi, loro aferti di campo sempre ti stesso Col cimitero dietro ti loro Unica cosa ti rimasto uguale essere ti passi, ti passi nemica, essere sempre con stesso ti segno Però adesso noi andare ancora molto ti facile, esserci ti tremunti da fare Successivamente noi ti problema troppo quanto noi andare dentro ti futuro Il futuro è essere molto ti difficile Mata Cascar, loro andati in Mata Cascar Me voleva chiedere una di cosa, a parte ti costo tutto grosso, guardare quanto costo di truppa Io sarei studiando se battaglie contro zompi uscire in momenti ti precisi Se loro seguire ti tempo per andare ti infatere ti are e ti verse Magari loro essere ti giorno 20 in paese d'Italia, poi essere in giorno 21 in Francia Questa ti poter essere una ti strategia ti nemico, loro poter andare ti seguire ti calentario e andare a prendere tutte quante ti monto così Se noi sapere ti prefetere le loro mosse però, noi poter fermare prima Guardare, guardare, loro ho mandato me contro ti corrilla, corrilla zompi, ma corrilla zompi Andare sotto ti terra e non guardare neanche il mio esercito che putare ciupase Fui ragazzi sapere il pene ti zompi, loro ti volere mangiare ti cerfello Però patale e ti catti, patale e ti catti non usare ti cerfello, io usare ti cerfello Patale e ti catti usare ti cuore Io con mio cerfello ti dare indicazioni a cuore ti patale e ti catti E loro andare ti prendere e ti sconfiggere il nemico Questa essere ti regole e passi per giocare ti patale e ti catti Guardare, loro andare ti scheletrini, ti cocotrillo E noi ancora noti a fare, manda tutti i truppi pesanti Perché quando rifare i truppi pesanti, loro dovrebbero preoccupare Oh oh, ragazzi serpentino ha rifatto in ti passi, cosa fare io? Mandare contro ti lui, va bene E' partita musica, che musica essere ti partita? Perché essere partita di musica contro ti corilla nero e essere andato capo subito? I ragazzi no capire cosa essere ti successo Essere partita musica ti pesanti contro truppe tepoli Guardare, 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 guardare Stare rifando tutto esercito, cosa volere fare? Perché il nemico non rientere? Arrifare ti passi spaziale, guardare, è inutile Il nemico completamente folle, guardare lui con leone e fare comunque ti cresta Poferino, loro hanno capito contro ti che fare Stiamo facendoti stracciare, ragazzi Stracciare, patali e ticati, andare e ti passare sopra ti nemico uno dietro altro Guardare, andare anche in Sara, dentro ti deserto, a me non frega niente Perché pofero ti nemico a non capire le situazioni in cui lui si trova? Loro dire, ma io ho andato dentro ti patali a combattere contro ti cati E perso, distrutto completamente, ti mi esercito Perché io toferiti rientrare contro ti patali e ticati? Io me, me, pausa, me fa ti prendere ti vacanza e me non torna più Questo è toferiti essere di mentalità ti nemico Però di solito esserci anche ti nemico quello ti potente Però lui è foglioso ti compatere, a me piace quanto nemico foglioso ti compatere E lui dire, no, aspetta, io ho perso contro ti patali e ticati E il mio esercito è andato caput, però io ho a fare altre tiitea E quanto lui usare questa tiitea, lui può dire, aspetta, io andare a prendere ti altro ti truppe Andare a prendere ti truppe forti per combattere truppe forti di patali e ticati Fetere, fetere, loro adesso usare ti petopear zompi Zompi petopear e essere molto ti forte Ok, molto bene, ragazzi Questa è essere andata ti caput, purtroppo Questo perché il nemico ha pensato ti toffere prendere ti truppe più forti Andare pene, andare pene Noi toffere elaborare ti altra strategia Noi adesso essere stati ti perso contro ti Ti Cranchio Cranchio con cote Quello lì che è saltare Di Australia Lui a fare ti forpici dentro ti mano Quindi noi toffere compatere con tutti loro Noi puttato caputo lui E poi andare ti contro Ti Ti zompi Ti petopear zompi Noi toffere ti pensare a strategia Noi toffere tonati tempo Tonati tempo potrei essere utile Anche ti cattotentro roppo potrei esserti utile Tutti quanti loro contro zompi Contro ti alieno, scusa E poi noi toffere astronaf E tifolante contro ti zompi Quindi poter usare anche quella Noi toffere ci preparare per creare ti patali Ragazzi Quartare, quartare, quartare Loro a rifare Loro aggressivi Loro fogliosi di compattere Importante essere stato ti mantare tonati tempo Una volta ti mantato tonati tempo Noi poterete prendere Uno poco di tempo Per pensare di più Intanto noi mantare ti truppe Mantare truppe su truppe Per compattere Credo essere rifatto qualcuno Non ti entro ti passa A compattere il loro passato sottoterra Mi raccomando Non fare passare Non fare passare Peto per zompi Essere ancora fifo Tonati tempo Non toffere ti perdere Cattotentro roppo Essere diventato caput Io speravo a lui Ti compattere uno poco di più Contro ti Ti nemico Ti alieno Ok Uno poco ti problema Uno poco ti problema Non fare prendere ta panico Importante mantenerti sicuro Tonati tempo Una volta noi sicuro Tonati tempo Noi sicuro ti vittoria Non fare prendere ta panico Non fare prendere ta panico Mantare altro cattotentro roppo Lui a fare compattuto Molto ti pene A fare ancora uno Ti animale saltella Con Ti Ti praccia Ti Ti campe Però è andato caputo Ok anche peto per È andato caputo A fare fisto ragazzi Essere ti strategia questa Fatale ti catti A fare compattuto con cuore E armi anche E alcuni anche ti missili A fare anche tipo loro Ti volanti A fare anche i missili E tutte quante armi Ti fa stanti Ma soprattutto Compattuto con cuore Oh lui a fare anche Preso ti tesoro Molto pene Questo Questo A questo Neanche ti avere finito Guardare Quanti tesori ti mancare Cioè tu mantare me Controtti nemico E neanche ti tesori Tesori surfire Uno ti compito Fare questo Ti tesori Importantissimi Mi preparate le ticati O se no puoi andare Anche te a lavorare Eh Così guadagno Un po' di soldi Eh Scusi Molto pene ragazzi Arapia sautita Questo è essere Ultimo Tilifello Ti zompi Per occhi Questo è perché Loro A quanto ti pare Non volere Fogliati Ti compatere Ti più giorni Quindi loro dire Ok Noi facciamo Una ticciornata Andare di questi Posti Poi noi Andare pausa E ti mangiare Nostri panini Per pranzo E poi noi tornare Ticciorno Topo Topo a feriti Tormito E pefuto Questa è essere Mentalità Ti nemico Ragazzi Loro spagliato Puoi sapere Perché patale Ti cattino Ti perdere Ti pataglie Questo perché Noi allenato Anche mentre Ti noi mangiare Noi allenare Oh ho visto Io forse una Ti papera Quartare Papera zompi Ragazzi Papera zompi Ho mangiato Mio pace Ma cosa essere Molto pene Io ti strato Uno attimo Io ti strato Uno attimo Andare pienissimo No problema Fer è anche studiato Ti nemico Loro rifare anche Con petoper Io fer è visto Petoper zompi Essere ti vicinanze Quindi prepararsi Ti pataglie Perché essere Accompagnato Assieme a ti Rinoceronte Rinoceronte ti alieno Lui poter essere Ti cross problema Insieme a ti Petoper zompi Quartare 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 A rifare Rinoceronte zompi Con anche ti foca Zompi Alieno Essere alieno Quello non zompi Meno fare differenze Di questo ti cenere Però a me non freca niente Zompi o alieno Loro esserti comunque nemici E sapere cosa fare Ti nemici Caput Forza Mantare Mantare Tornati tempo Con Navicella Spaziale Volante E noi Antare Ti fittoria Proteggere Tornati tempo E navicella Spaziale Mi raccomando Ragazzi Mi raccomando Petoper zompi Essere ancora In difficinanze Fui Toffere Fermare Con tutto Quanto Ti truppe Noia Fere Tutto Putare Tutto Quanto Ti attacchi Tutto Antare Rifare Anche altra Ti oca No Tornati tempo Caput Tornati tempo Antata Caput Ragazzi Io ho detto Ti proteggere Perché Portare Portare Benoceronte Ha rifatto Inti passe Lui colpire Uno dietro Altro Velocissimo Mercazi Serve Un'altra Di strategia Toffere Antare Ti prendere Ti Ti Catto Questo Lui Fermare Ti tempo Per Alieno Lui Molto Utile Antare A provare Così Se noi Non riuscire Ti Questa Moto Noi Toffere Antare A far Lavorare Ti Piocente Dentro Tipasse Quello Essere Essenziale Se noi Non Fere Ti Esperienza Dentro Passe Noi No Ferretti Esperienza Per Mantare Catti No Esperienza No Catti Per E Io Toffere Ti Resubito Toffere Ti Resubito Ti Antare Ti Aumentare Dentro Tipasse Se io No Tire Subito Ti Aumentare Dentro Tipasse Loro Non Capire Da Soli Questo Essere Ancora Uno Tip Problema Purtroppo Ti Eserce Tutti Patale Ti Catti Loro Non Capire Toffere Fare Ti Discorso Con Loro Toffere Uno Poco Fare Capire Che Purtroppo Ti Esercito A fare Bisogno A fare Bisogno Ti Mano Dentro Di Loro Se no Non Nessuna Ti Parte Compattimento Ragazzi Non Essere Solo Dentro Di Territorio Di Guerra Essere Anche Dentro Di Nostre Menti Se Loro Non Capire Che Toffere Ti Andare Ad Aiutare Esercito Che Stare Ti Fuori Ricordare Sempre Anche Ti Truppe Quanto Noi Andare Dentro Ti Guerra Non Essere Soltanto Ti Compattere Con Ti Armi E Fucili Carri Armati Anche Ti Ragazzo Che Fare Di Compattimento Dentro Ti Cucina Per Tare Tamanciare Ti Esercito Anche Lui Essere Dentro Ti Guerra Lui Tare Cross A Mano Ti Patale Ti Catti Tutti Quanti Insieme Ti Insegnare Ti Truppe Dentro Ti Passe Perché Loro Non Avere Capito Pene Loro Pensare Eseret Inutili Loro Non Motifati Ti Compattere Ti Guerra Quindi Loro Non Fare Ti Lavoro Fetere Io Ho detto Loro Mi raccomando Ti Ragazzi Ti Compattere Anche Foi E Loro Messiti Impegno Una Volta Loro Messiti Impegno Noi Fere Anche Tu Rino Ceronte Contro Meno Freca Niente Mantare Toppia Tonna Di Tempo Così Noi Distruggere Completamente Ti Nemico Noi Tuffere Fare Capire Anche Dentro Ti Passi Essere Importante Guardare Guardare Rino Ceronte Fermo Paralizzato Lui Non Potere Più Muovere Uno Ti Muscolo Lui E Fisto Cosa Si Trovare Taffanti E Loro Dire Io Essere Frecato Forza Ragazzi Intare Prendere Ti Pase Nemica Adesso Guardare Che Esercito Ti Fa Stante Noi Fere Toppio Catto Ropò Toppia Tonna Di Tempo Toppia Racazza Falchiria Qua Tutto Quanto Ti Esercito Essere Ti Rattoppiato Fetele Questo Volere Dire Essere Efficiente Quanto Dentro Ti Pase La Forare Pene Anche Fuori La Forare Pene Io Però Non Volere Io Volere Ancora Ti Compattere Toffere Ti Liberare Ti Monto Aspettare Uno Poco Per Tilifello Con Ragazzina Ti Puste Ti Cuore Ragazzi Io Mi Sono Scortato Ti Ti Giorno E Tipo Io Ho Passato Non Ho Trentati Minuti Ma Trentati Ore Me Chiedi Scusa Ma Questi Essere Tilifelli Troppo Ti Facili Per Uno Pugno Putato Ci Ti Passe Loro Ho Fere Tato Metti Retteret Amore Io Apri Retteret Amore Quartare Noi Fere Trofatoti Leone Con Con Uniforme Ti Ti Scuola E Anche Ti Pezzo Di Panino Tentro Ti Poca Quartare Come Carino Lui Correre Correre Piccolo Leone Tu Fare Tarti E Questo Essere Tutto No Quartare Può Ferino Lui Anche Inciampare Ogni Tanto O Forse Tirare Testata Le Prafa Fere Finto Anche Ti Premio T 150 Scatolette Ticato Molto Pene Detto Questo Ragazzi Io Non Penso Di Eserci Ti Molto Altro Da Fare Peccato Perché Ti 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 Li Felli Con Con Scuola Io Volere Fare Forse Uno Ti Poco Altri Ma A Rifare Ti Difficile Troppo Ti Tempo Afanti A me Questo Non Piace Molto Io Volere Fare Subito Tili Felli Ciatti Più Difficili Questo Per Pampini Io Penso Di Poter Finire Qua Noi Però Tornare Presto Sul Patale Ticati Contro Tizumpi Loro Essere C'è Lì Che Mi Aspetta Per Il Momento E Tutto Noi Ci Vitiamo Di Prossima Parte Su Patale Ticati Qui Talano Il Tutto Ciao Tutti